Non voglio fare polemiche ma credo sia sciacallaggio strumentalizzare i morti per addossare responsabilità al governo. Così il presidente della regione Calabria Roberto Chiuto in merito al dramma del naufragio di migranti ha steccato di Cutro. Come molti calabresi ho sotto agli occhi il dramma di ciò che è accaduto. Ho visto bambini deceduti che sono stati riconosciuti dopo qualche giorno e che nella bara al posto del nome avevano un codice. Di certo però prosegue occhiuto qualcosa non ha funzionato nei soccorsi. È il sistema che non funziona. Frontex è più calibrato a operazioni di polizia che a quelle di soccorso. Quando qualche anno fa ci fu una tragedia in mane a Lampedusa si fece Mare Nostrum. Il limite di Mare Nostrum è stato che era una programma nazionale ma troppo poco spesso in Europa si parla di accoglienza e troppo poco spesso si parla di potenziare i sistemi per soccorrere i migranti. L'Europa si deve occupare dei soccorsi e quindi successivamente anche del ricollocamento. Va approfondito il ruolo di Frontex che ad oggi non svolge un'azione specifica per soccorrere donne e bambini che muoiono in mare. L'Italia può essere orgogliosa della Calabria. Nel 2022 ha accolto 18.000 migranti. Lo abbiamo fatto senza far polemiche, senza parlare alla pancia dei calabresi. Lo hanno fatto i sindaci rimboccandosi le maniche. Lo abbiamo fatto senza il necessario supporto da parte dei governi nazionali. Questa solidarietà alla Calabria la sta dimostrando ambiamente in questi giorni, prosegue occhiuto. L'Italia può essere orgogliosa della nostra regione. Quella tra la Turchia e la Calabria è una rotta che si è consolidata negli ultimi due anni, nella indifferenza generale, nell'indifferenza delle istituzioni europee e anche in quella delle ONG, che non hanno mai presidiato questo tratto di mare. L'Unione Europea, ha concluso occhiuto, ha investito molte risorse in Turchia per arginare i flussi della rotta balcanica. Questi flussi si sono semplicemente spostati e adesso dalla Turchia arrivano in Calabria.